Buongiorno, noi abbiamo deciso di una temporada di quanto rato, per esempio il nostro show è in Tukamina, quindi noi abbiamo un po' di programma, sì, noi abbiamo un po' di programma, di grabare a capa, però ora che noi abbiamo deciso di fare la prossima settimana, quindi noi abbiamo un tempo per mettere più materiale secco. Lo che potremmo pensare oggi è che ci vuoi fare un programma che deve passare per la temporada e ora in Amoripapia. No, 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 non, non, non. No, non, 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 ma siamo qui, che so che meglio, non attellamente, ma devi passare prima, per esempio il caso, non vale, non vedi, prima ora che facciamo la settimana settimana. Ghibli ha, ci siamo tornati un ticcidio del ghibiridisi, che fa quel tempo si comenta la ghibireidisi? No, non c'è un tempo lì, il 8 di apri, per la prima vendetta. Quindi, praticamente, è quasi un anno di ghibiridisi. Sì, 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 Lamentablemente ora che non si sta per celebrare un anno, però durante la situazione ho fatto un par di assunti personalmente, ora non si opta, non si opta, non si opta per la che vai seguendo la 6-1-1. Come vai, che reaccionate durante la temporada anterior? No, tremendo. Si, si, ma ne vore qui con un team programma, tra un'altro che può essere arrivato, che ti è passato, che ti è cosa così, che mi ha dato l'attenzione a te, che ti è interessato a te. Ora non abbiamo l'opportunità, ma bisogna prendere un pacchetto pendente per il prossimo episodio di Gibrillitis. Si, mi chiedeci a dire un po' di tranquillità per Gibrillitis te. Guarda qui, Gibrillitis te. Che tu vai? Di Gibrillitis te. Di Gibrillitis te. Solamente ora qui... No, l'abbiamo chiamato un pozo, non c'è un pozo ora qui. Quando combina con l'assunto non personal, ora non sta guanturato, però la grabazione non si segue. La grabazione non si segue, mi sento, almeno si è cansato, però non c'è più materiale ora, ora che non si vai on. però mi sono ripetiti. Se, personalmente, mi sono troppo! Perché non mi senti un pozo, però non ci sono mai interessanti, ma che non mi sono mai interessanti perché non mi sento. Ma non mi sento, ma non mi sento. Ma non si tratta, se è meno possibile nel futuro. Mi ha detto che è importante, che mi ha fatto un po' di tempo, ma è un po' di tempo, ma è un po' di tempo. E' un po' di tempo che mi ha fatto un po' di tempo, ma cosa vuoi fare? questo è molto facile questo è molto facile è molto facile abbiamo fatto un sketch di un minuto e mei un minuto e mei però abbiamo fatto per le ore che arriva per farlo è solo un minuto e mei quindi non è importante ora qui abbiamo fatto un team un team per l'altro per l'altro abbiamo fatto un talento e ci sono molto bene quindi abbiamo fatto un talento e ci sono molto felice ma non è non ci sono non ci sono ma non è grazie 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 grazie